Renato, siamo al campetto sportivo di Sganaus, un campetto che è sempre stato utilizzato dai ragazzi per giocare a calcio, per giocare a pallone, ma le condizioni in cui versa non lo permettono più. E' un po' una storia vecchia questa perché quando seguivo la FIGC, la federazione, e poi diciamo che sono nato anche da queste parti, mi sta a cuore tutta la situazione, cominciare dal fiume, dai campi e tutto quello che c'è di pubblico. Per quanto riguarda il campo, l'anno scorso ho fatto un'osservazione, ne abbiamo parlato con la grandissima Sara della circoscrizione, perché c'erano dei pali che penzolavano con il vento ed erano pericolosissimi perché c'erano dei bambini, dei ragazzi che giocavano continuamente in questo campo. Comunque in parte le hanno buttate giù e almeno per quanto riguarda la sicurezza, però per esempio ogni tanto si sente qualche problema perché qualche bambino ci lascia la vita che crolla, che ne so, crolla una traversa, crolla una porta, ne abbiamo sentito diversi casi di queste situazioni. E quindi è bene, a parte il fatto che è un peccato, sono dei soldi pubblici spesi per alleviare un po' quelle che sono le mancanze della frazione a favore dei nostri giovani, e che bisognerebbe curarlo, bisognerebbe seguirlo, anche se poi importante è la gestione di questi campi. La nota dolente è proprio la gestione, perché se non si trova un gestore serio, affidabile, le cose poi vanno in questo senso, poi ritroviamo questo problema qui. Però molto si può fare, è chiaro che la città di Carbonia è grande e quindi i problemi sono tanti, però nelle piccole cose almeno si può ovviare e si possono sistemare queste cose. Grazie.